Ogni mattina uo uo ed ogni sera uo uo ed ogni notte che cosa c'ho nella testa, cosa ho nelle scarpe ed oi me... Ehi! Scusi, ho trovato la porta aperta e sono entrata, sto traslocando insomma e... Buongiorno. Buongiorno, sono la nuova vicina, sto facendo un trasloco e cercavo qualcuno che mi aiutasse a portare un divano ma... Ma che problema c'è? Faccio io? Ma che, ma non si preoccupi. A proposito, io sono un'assistente domiciliare, mi occupo di persone come lei. Persone come... Ah, persone come me. Sì, visto che sto cercando lavoro ovviamente non so se ha bisogno di qualcosa. Io sono disponibile. Ah, certo, certo. Come hai detto che ti chiami? Scusi, Alessia. Oh, Gianni. Che macello, faccio io, non ti preoccupare. Assolutamente. Vuoi prendere anche quello lì per favore? Certo. Lascia, faccio io, metto io a posto sul tavolo, grazie. Fa dei libri. Ma che, sei matta. Mia madre. Questa è casa sua. È morta. Qualche giorno fa. Cavolo, mi dispiace. Adesso qui ci sono io. Circondato da ricordi. Non è facile. Non è facile. Vabbè, quindi si ha bisogno di un aiuto per, non so, raccogliere qualcosa. Certo, grazie. Cucinare, qualsiasi cosa, veramente. Tanto sono qui più facile di così. Quando vuoi. No, ma dammi del tuo, ti prego. Quando vuoi. Alessia. Gianni. Scusa ancora per il disturbo. Ma che, nessun disturbo, non ti preoccupare. Grazie. Benvenuta, eh. Grazie. Madonna, che pezzo di fica. Mamma, dai su, eh. Non mi giudicare pure tu, eh. Ma che ne sai, tu che ne sai. Che ne sai, che ne sai.